Open Day, dire, fare scienza di divulgazione scientifica del Ministero della Pubblica Istruzione. Siamo alla Cittadella Mediterranea della Scienza di Bari. I bambini faranno degli esperimenti qui a Bari in collaborazione con Cittadeibimbi.it che oggi organizza una domenica in famiglia. Andiamo a vedere di che si tratta. Raggiungiamo la professoressa Ida Maria Catalano che è il Presidente della Cittadella Mediterranea della Scienza per farci raccontare cosa sta succedendo. Cosa succede oggi come in altre nuove città italiane qui a Bari alla Cittadella Mediterranea della Scienza? La Cittadella Mediterranea della Scienza oggi apre i suoi battenti al pubblico dei non addetti ai lavori in generale ma dei ragazzi in particolare. E questo avviene, come lei ha ben detto, in concomitanza con altri nove musei della scienza italiani nell'ambito del progetto ministeriale Dire e Fare Scienza voluto e finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica. Questo progetto ha tra i suoi obiettivi quello di avvicinare il pubblico dei non addetti ai lavori ma in particolare il mondo dei ragazzi a quello della scienza in maniera ludica, piacevole e divertente. Sappiamo che ci sono cinque laboratori diversi in cui i ragazzi possono sperimentare direttamente e quali sono questi laboratori? Allora, i laboratori sono uno dedicato all'acqua, l'altro alle immagini, luci e colori, un altro dedicato alle telecomunicazioni, un altro dedicato al mondo delle scienze naturali e al mondo della motorizzazione, in particolare al treno di ieri, oggi e domani. Allora, siccome la cittadella delle scienze vuole fare le cose come si deve, purtroppo abbiamo dovuto limitare gli ingressi a 720 persone, 720 bambini, in modo che tutti potessero metterci davvero le mani. Però, però, noi diamo a tutti la possibilità di riprovarci il... 17 novembre, domenica, 17 novembre. Per le prenotazioni è possibile effettuarle dai primi di novembre sul sito della Città dei Bimbi. Più precisamente, dal 4 novembre, prendete nota su www.cittadeibimbi.it che oggi, in concomitanza a questo meraviglioso evento, organizza la sua Domenica in Famiglia. Non mancate, perché la prossima volta, il 17 novembre, i bambini potranno insieme ai genitori, questa volta, sperimentare e mettere mano, o no? Perfetto, sicuramente, perché il coinvolgimento per il 17 novembre sarà dell'intera famiglia, su esperimenti mirati. Non mancate!